Qui suona il vuoto e quando sale di tono i 575 cavalli del 4.4 permettono di accelerare da 0 a 100 in 4.2. Una sport activity coupé più veloce della Porsche 911 GTS. Vuoi mettere che soddisfazione? 750 Nm di coppia ma emissioni e consumi ridotti del 20%. Cambio ad 8 rapporti e velocità massima limitata a 250 km l'ora. E qui la Porsche sottolinea la differenza.